almeno a livello di coordinatori 18 monete di varia origine donate in apporto in una unica emissione a dario ragusa coordinatore del cerchio esseno attraverso domenico pollice strumento del cerchio umanità e movimento il cui coordinatore è alessandro lotti è importante l'interazione dei due cenacoli almeno a livello di coordinatori se non ancora a livello di strumenti